Ti avverto, Hermione. Tieni quella brutta bestiaccia lontano da Crosta o la trasformi in un copriteiera. È un gatto, Ronald. Che ti aspetti? È la sua natura. Un gatto? È questo che ti hanno detto? Sembra più un maiale con la pelliccia, credi? Ha parlato il proprietario di quella vecchia spazzola da scarpe puzzolente. Stai tranquillo, Grattastink. Ignora questo cattivone. Harry! Harry!